Ci siamo tutti! Abbiamo il via libera! Warzone vi aspetta! Prendete le vostre cose! Tre minuti al decollo! I nemici saranno ovunque! Le occasioni di scontro non mancheranno! In azione! Ritorno! Sopravvivi per rischierare i caduti! Un CD per riaverli con te più in fretta! Bene, soldato! Marca un punto di lancio per la squadra e andiamo! Ho marcato la zona da terra, ma non perdiamoci! Vado di qua! Zanzara ostile in funzione! Israigliatrice leggera, qui! Zanzara nemica schierata! Me �icidete! O lake! O... ... ... ... Sì Sì È l'ora della ventessa, stai tornando in campo Gardiano stile in campo Gas in avvicinamento Mi servono soldi Ci serve una ricognizione aerea Mi servono soldi Sanzara ostile in funzione Tutti i compagni sono nella zona sicura Sanzara Sanzara nemica schierata Lancio di equipaggiamento in arrivo Lancio di equipaggiamento per voi Sanzara ostile in funzione Munizioni disponibili Abbiamo captato una trasmissione criptata Pronti? Aprite casse di bottino per decodificare il segnale Attenzione Area pericolosa Non siamo tra le squadre migliori Forza, dobbiamo rimontare Un compagno è tornato in squadra Un compagno è tornato in squadra Bene Vado di qua Visuale sul nemico Un compagno è tornato in squadra Non sotto Noti aperti Ottima uccisione Marco, il resto della squadra sulla mappa tattica Buona caccia Marco colpi per fucile a canna liscia L'altra squadra ha raggiunto la zona sicura Quella squadra si incatterà, è messa fine alla sua serie Non è ancora chiuso Disparano! Saldi attivi, prezzi delle stazioni di acquisto ritoccati Ingaggio qui! Merda, qui mi fanno secco! Non sembra pericolosa! Occhio, la finestra di ritorno sta per chiudersi Movimenti Gas in movimento Zanzara nemica schierata Movimento Nemico in arrivo nell'area Zona pericolosa Bisogna il movimento Saldi terminati, prezzi tornati alla normalità Mi sparano Mi muovo Questa non è una morte per te In piedi, la tua morte sarebbe uno spreco Faccio un fumogeno Mi colpiscono Mi colpiscono Lancio un fumogeno Rezzano ancora dieci squadra Lico a terra, cerca gli altri sulla mappa tattica Attenzione Attenzione Ritorno non più attivo Si fa sul serio Attacco aereo ostile vicino a voi Casse di scorte rifornite Prendete quello che vi serve Zona pericolosa Sono ferito Aria a bersaglio marcata Fuoco Confermato Non può 3-1 in zona Attacco imminente Prendete Continuate così Fino alla Vittoria Poi mi fanno secco Perdete terreno Muovetevi Alla zona sicura Gerda NERDE? Aşa Wooger Ora sei tra gli ultimi dieci Attenzione, area pericolosa Arrivano dei nemici Attenzione in alto 5 squadre ancora attive nell'area Il gas è sempre più vicino Siete in quattro 3 squadre rimaste nella zona di guerra Attenzione Un aggrappolo ostile attiva Attacco aereo ostile vicino a voi Attacco con mortaio vicino a voi Ok Prima occasione soldato Uccidio verrai ucciso Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Che cazzo ci fai per terra? Non è ancora chiuso Cazzo, poveri schiaccio A tutti, estrazione in arrivo Agganciarsi e tenersi pronti Non perdete il treno Eccovi qua Eccovi qua Ecco lì Ben fatto I bersagli non mancano Allora Santo Dio A te non ti ammazza nessuno Ti hanno pregato le uccisioni Carichi e concentrati Non è ancora finito Non è ancora finito Grazie.